Un taglio di 15 dirigenti da 24 a 9, ma non solo. I dipartimenti da 20 passeranno a 8 veri e propri macro settori organizzativi con a capo un solo dirigente generale. I dipendenti verranno tutti spostati a costo di ascoltarli uno ad uno, tutti e mille. Parola di Cateno De Luca, parole d'ordine, razionalizzazione, semplificazione e risparmio. Dal primo di ottobre non ci sarà più nessun alibi. Parte da qui la rivoluzione del sindaco più social d'Italia che lancia la sfida dei tagli e fa tremare le colonne di Palazzo Zanca. Ogni dirigente, spiega De Luca, costa alla città dai 130 ai 150 mila euro l'orde all'anno e spesso, secondo il sindaco, sarebbero proprio le confusioni di competenze, le lungaggini burocratiche, ad affossare la macchina operativa e amministrativa e allora sia i tagli, anzi, alle decapitazioni, come le chiama il sindaco dal suo profilo Facebook. Abbiamo dato a tutti i dirigenti di Palazzo Zanca termini ben precisi, spiega il sindaco. Adesso sono passati sei mesi dall'approvazione del Salva Messina e dall'approvazione del piano di riequilibrio economico-finanziario. Oggi è il momento di verificare chi sia adeguato alle direttive votate anche dal Consiglio Comunale e chi invece ha fatto orecchie da mercante. Tutto il personale, conclude il primo cittadino, sarà assegnato ai nuovi dipartimenti con la ridefinizione di compiti e posizioni organizzative e del lotta senza quartiere ai fannulloni. Sul piede di guerra i sindacati che parlano di sovraccarico di responsabilità e competenze e si prepara un'estate più calda del previsto.